L'umanità è fuoco. La sua fiamma brucia, alimentata da ciò che siamo, dalle nostre speranze, dai nostri sogni, ma può essere alimentata dai motivi sbagliati e basta poco a scatenare l'incendio. Cosa vuoi dire con questo? Dici che è giusto che ci siamo estinti. La natura ci ha ripagato con la nostra stessa moneta. Eravamo superbi e questa è stata la nostra malattia. Venezio! La natura ci ha ripagato. La natura ci ha ripagato. La natura ci ha ripagato. La natura ci ha ripagato.